L'Associazione U-Siena Alumni è il network dei laureati dell'Università di Siena, una forza positiva per la comunità universitaria e per la società, che si impegna costantemente per mobilitare le energie migliori delle persone che hanno frequentato il nostro Ateneo. La nostra community si propone di essere un ponte tra il mondo accademico e il mondo del lavoro attraverso incontri, workshop e seminari pensati per trasmettere conoscenze ed esperienze in una logica di scambio reciproco e di continuo apprendimento. In quest'ottica, l'Associazione Alumni propone un programma di mentoring che permette a tutti gli studenti dell'Ateneo di entrare in contatto diretto con professionisti dei vari settori, in grado di guidarli e consigliarli, non solo in fase di uscita dall'università, ma durante tutto il loro percorso di studio. Un mentor è una persona di esperienza al quale ogni allievo può riferirsi per avere un supporto e crearsi, attraverso la relazione con esso, le competenze giuste per intraprendere e migliorare la propria carriera lavorativa. UCN Alumni serve a valorizzare e promuovere l'immagine dell'Ateneo e dei propri alumni in ambito nazionale e internazionale, come modello di classe dirigente capace, innovativa e attenta allo sviluppo del Paese. Attraverso un network di associati in continua crescita, UCN Alumni favorisce il confronto e l'aggregazione tra tutte le componenti della comunità universitaria, del mondo del lavoro, oltre che con il territorio di riferimento. Per entrare a far parte della community UCN Alumni, associati su www.alumni.unisi.it, seguici su Facebook, Twitter e Instagram.